Siamo state aspedite per una notizia culturale, ecco dovrei dare un attimo la parola a Milena e a Flora. Massimo dov'è? Massimo, allora Massimo vieni un attimo, ti ringrazio per l'ultimo momento. Forse l'ho visto ma parlato Massimo, per i miei. Io ringrazio voi, sia a tutti i partecipanti, ma a particolare l'associazione più presente che conoscerete tutti, tutti voi che faccio la chiede di un'azienda individualmente. No, volevo solo sottolineare un fatto, come si è organizzata questa bellissima iniziativa, sono anni che ci conosciamo, diciamo, un po' per il sentito dire che sia da parte nostra e da parte l'opera, che non si conosce, sono conoscenze di un'azienda individualmente, ma non si è iniziativa. E molto bella la spontaneità, come si è organizzata la posta. Io voglio iniziare in particolare per i genitori, perché l'iniziativa, la posta, non è soltanto la posta. Però ecco, penso che sia un modo, anche voi, che sentivo con i mancisti, per dire il buono, no, 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 no. E quindi, niente, è molto bello ringraziarti, anche le ricerche, perché abbiamo organizzato un pochissimo tempo, quindi se ci sarà un po' di tempo, una cosa che non ha funzionato, io mi dispiace, però devo dire che la spontaneità a volte poi porta anche le sorprese e le precedenti. E quindi, niente, grazie a voi. Grazie. Allora, vedo, è un'associazione di Maggio Semonetano, noi siamo un'associazione, si chiama un'associazione di Maggio Semonetano, e questa è la terza edizione, per aver preso il programma di tutta la conversazione, per capire un po' quello che ci ha avuto. Allora, naturalmente il Presidente dita, è un'associazione di Maggio Semonetano, e la terza edizione, per aver preso il programma di tutta la conversazione, che è un'associazione di Maggio Semonetano. perché il Presidente mi ha portato altre etnologie da un mese più che non arrivano. quindi ci sono tutte le limitazioni delle via, del genato, accademico, la biappina, tutto quanto. Quindi, l'associazione purtroppo non esiste. Abbiamo fatto tutti l'astrologia di Maggio Semonetano, che è stato già tutto qua, quindi purtroppo lo posso. è andato un po' a guardare l'intologia, e studiando questo po' a guarda, e per il mio mistero è la specializzazione di poesie. Grazie a tutti e 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 a tutti.